La crescita sembra non essere più esponenziale, la curva non raggiunge le stelle come ha fatto la scorsa settimana e lo si vede chiaramente anche dal grafico, tra il primo caso del 20 febbraio e gli ultimi delle scorse ore che ci hanno fatto superare quota 30.700 per numeri di positivi, la striscia gialla che inizialmente ha subito un'impennata comincia a rallentare. Non a scendere ma a stabilizzarsi, la percentuale di nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore segnava un più 6,8, più alto del 5,7 di lunedì, quasi identico al 6,6 di domenica, ma oltre la metà rispetto a sabato, quando i positivi erano il 14% in più del giorno prima e il dato migliore della settimana si era registrato lunedì con un più 9%. A Milano il numero complessivo dei contagi di ieri era invece inferiore a quello di due giorni fa, 121 rispetto a 137. Il rischio era che il contagio esplodesse anche nel capoluogo. La cautela è d'obbligo ma secondo gli ultimi dati raccolti si stabilizza la curva in Lombardia e non c'è bisogno di osservare e interpretare i prospetti per capire che la provincia più colpita è quella di Bergamo con 6.727 casi, segue Brescia con 6.301 e poi Milano con 5.701, sesta Pavia con 1.499 e ultima Sondrio con 253 contagi. Dato che nella sua drammaticità resta invece regolare è quello delle vittime nella sola regione in Lombardia 4.178 con un aumento di 402, lunedì era stato 320, venerdì 381 e sabato la giornata più nera, 546 morti in un unico giorno.